Buon pomeriggio a tutti e buona domenica, ci troviamo al Saila Beach Club alla Marinella insieme a Valerio del Carpio, perché? Perché vogliamo presentare questo evento che si terrà il prossimo fine settimana su Corso Nuistrano alla Mezzia, che si chiama SBS al Centro. Di cosa si tratta Valerio? Intanto buonasera a tutti, sì, SBS al Centro sarà un grande evento sportivo e un grande evento per il territorio, perché andremo a creare... Targato Saila Beach, grazie anche al patrocinio del Comune di la Mezzia che ci permette di svolgere comunque questa attività, nel weekend, noi dal 29 al 31 Corso Nuistrano sarà tutto dedicato allo sport, perché chiuderemo il tratto di passaggio del Corso Nuistrano e andremo a creare un campo da bicicletta, un campo da street basket, un'area beverage e un'area food, in più un'area dove ci sarà anche la rassegna stampa, uno speaker, giornalisti e perché no tanta gente, tanto pubblico intorno a tutta questa area che andiamo a creare. Quindi un grande evento al fine settimana, dal pomeriggio di là, fino alla sera, fino a notte, sport al centro di la Mezzia Termini, dal concorso nuistrano. Ma si terranno degli eventi, ovviamente ci sono dei tornei organizzati, sono dei tornei a che livello? Sì, allora, per quanto riguarda Beach Volley andremo proprio a fare un Serie Beach 1 della FIBA, quindi della Federazione Italiana Pallavolo, un torneo di grande importanza, un gradino sotto al Campionale Italiano, ma che dà in palio tantissimi punti proprio per partecipare al Campionale Italiano e un buon Montepremi. Ci saranno 2.500 euro di Montepremi per questo torneo nazionale Beach Volley. Per il basket invece ci appoggiamo all'LB3 che è un'associazione, anche qui un tour nazionale e in palio ci sarà proprio l'accesso alla finale di questo tour, quindi anche per quanto riguarda lo street basket abbiamo un torneo di caratura nazionale e in più tanti altri bellissimi premi per i partecipanti. Bene, quindi insomma non ci resta che venire da venerdì a domenica sul Corso Numistrano alla Mezzia Terme. È possibile anche partecipare? Sì, diciamo per quanto riguarda bisogna avere un punteggio per accedere con il ranking al torneo, bisogna fare l'iscrizione attraverso il portale della federazione, essendo comunque un torneo nazionale. Per quell'altro invece per il torneo di street basket c'è l'evento creato su Facebook, quindi basta seguire la pagina Sera Beach Sport sia su Facebook che su Instagram, potete trovare tutti i link e tutte le modalità di iscrizione al torneo di basket che è aperto comunque a tutti. Bene, quindi allora appunto rinnoviamo l'invito a tutti quanti a venire sul Corso Numistrano alla Mezzia Terme dal 29 al 31 luglio. Grazie ancora Valerio, grazie, ciao ciao.